Intorno alle 10 e mezzo di questa mattina un signore, probabilmente anziano, stava camminando con la sua bicicletta in via Verdi. Improvvisamente si è sentito male ed è caduto a terra. È morto nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dell'ambulanza che è intervenuta. Molti si sono lamentati del fatto che il corpo è rimasto per circa due ore sul marciapiede coperto da un telo verde e da una transenna che ne delimitava il perimetro. La famiglia è intervenuta ed ha aspettato con strazio l'arrivo del carro funebre, un paio d'ore dopo quanto era accaduto.